Abbiamo detto che sei stata una delle poche cose da salvare oggi, la tua pensazione è buona, però brutta della squadra. Sì, è stata una partita abbastanza difficile, diciamo che potevamo far meglio, però la regina comunque ci ha messo in grossa difficoltà e complimenti a loro. Perché vi ha messo in difficoltà? Perché aveva prenduto tutte le seconde palle, arrivava sempre prima, un po' più di sostanza diciamo. Un ruolo naturale è quello di Mezzala, è giocato da esterno alto, poi da quarto di centrocampo, puoi fare tutto? Sì, il mister mi ha detto che posso fare tutto, quindi io dove mi metto cerco di fare il meglio possibile. Sei preoccupato per questa prestazione della squadra? No, non sei preoccupato perché comunque sono le prime partite, quindi ancora ci dobbiamo conoscere veramente, però la nostra è una squadra forte e possiamo fare delle belle cose. Ti chiedo un'ultima cosa, dal punto di vista personale che stagione ti aspetti? Mi aspetto una bella stagione, comunque vengo dalla stagione scorsa che comunque credo di aver fatto abbastanza bene, quindi spero di aver fatto bene anche quest'anno. Una domanda una di numero da studio che c'è l'aereo. La domanda veloce, se Fabio Maestro è preoccupato? Tutto qui, ma credo di no, da come ha parlato. No, 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 assolutamente non sono preoccupato perché comunque la squadra c'è, le idee ci sono, ancora, come ho detto prima, bisogna conoscerci meglio e verrà, insomma. Grazie. Grazie.